Utilizzare 200.000 euro che il concesa versa al Comune per il ristoro ambientale per una serie di interventi tese a miglioramento della qualità della vita dei residenti della zona di Noce Mattei. La proposta arriva dai consiglieri di opposizione Maurizio Balassone, Francesco Berrotta, Fabio Pingue, Roberta Salvati, Mauro Tirabassi che hanno raccolto le stanze e le proteste dei residenti delle Marane per i miasmi che arrivano dalla discarica di Noce Mattei. Una situazione insopportabile che ha spinto i consiglieri a presentare la loro proposta attraverso una mozione da discutere in consiglio. L'opposizione rimarca come nel corso degli ultimi anni il ristoro di 200.000 euro sia stato utilizzato per il finanziamento della bonifica delle scariche abusive del centro di raccolta, in più una quota è confluita senza destinazione di spesa nell'avanzo di amministrazione. Come opposizione rincarano i consiglieri chiediamo che venga impegnata l'intera somma del ristoro ambientale per uno studio analisi del territorio circostante, dell'acqua, aria e suolo, il miglioramento stradale, rifacimento dell'asfalto, marciapiedi, opere utili alla comunità nelle zone fino a 5 chilometri dalla scarica di Noce Mattei, di procedere a una verifica delle risorse ricevute circa il ristoro ambientale dell'annualità 2013-2019 e quale sia stata la loro destinazione di spesa, di riferire in merito alla bonifica della zona pastorino nel comune di Sulmona, dichiarato la regione Abruzzo sito pericoloso con delibera 764 del 22 novembre 2016. Tutto questo con l'impegno della giunta e della maggioranza di venire a riferire in consiglio comunale per monitorare e condividere il percorso da intraprendere. In conclusione siamo decise a ottenere delle risposte a combattere l'inerzia che blocca qualsivoglia buona azione rivolta alla nostra comunità, concludono i consiglieri di opposizione.